Il fatto che stiamo intanto a dismisura il numero delle persone positive che hanno dei sintomi non depone evidentemente, favorevolmente, per un'evoluzione positiva nelle prossime settimane. È molto preoccupato l'assessore Saltamartini che sottolinea l'importanza della vaccinazione sulla base dei recenti dati che evidenziano la probabilità 100 volte più alta di ammalarsi per coloro che non si sono immunizzati. Su 1200 persone prese a campione, tra coloro i quali sono risultate positive, le persone vaccinate con doppia dosi sono meno dell'1%, 0,98% e con la prima dose arriviamo al 12%, quindi significa che il vaccino tiene e funziona. Eppure nonostante questo, nonostante tutto, c'è ancora una difficoltà da parte di molte persone. In materia sanitaria non ci può essere lo stato di polizia, io credo, dobbiamo sempre ragionare, convincere. Io penso di poter dire che dobbiamo avere fiducia nella scienza, io personalmente ho fiducia nella scienza. Sul tema dei giovani chiamati a vaccinarsi, Saltamartini racconta ai nostri microfoni episodi di ragazzi intenzionati a sottoporsi alla somministrazione, ma invitati dai loro genitori a non farlo. Ci sono stati almeno un paio di casi, ragazzi che mi hanno chiamato personalmente perché volevano che fosse somministrato loro il vaccino, mentre i loro genitori erano contrari. Anche qui questo sarà un problema futuro da affrontare a livello nazionale. Dal punto di vista giuridico bisognerà capire che probabilmente il diritto alla salute è un diritto soggettivo. Io penso che un ragazzo abbia il diritto di decidere indipendentemente dalla volontà dei genitori, sia nel caso che voglia vaccinarsi e sia nel caso in cui rifiuti il vaccino.